Li avevamo trovati abbandonati in via Parigi, in piazza Guido Monaco, in zona meridiana addirittura lasciati nel bel mezzo della carreggiata. Non stiamo parlando fortunatamente di piccoli amici a quattro zampe abbandonati lungo la strada, bensì ancora una volta di materassi. Sono infatti tornati lungo le strade della città, questa volta in uno dei tratti più trafficati di Arezzo, proprio nell'area di sosta del raccordo che collega il centro città al casella autostradale. Ma il materassi abbandonato non era solo, si trovava infatti in buona compagnia, al fianco di una rete e di un televisore. Poche ore dopo i rifiuti ingombranti sono stati rimossi, ma ancora una volta non possiamo che stupirci dell'inciviltà e della maleducazione di coloro che continuano a considerare le strade della città una grande discarica a cielo aperto.